Due mezzi, una Porsche e uno scooter andati completamente distrutti, molti altri invece danneggiati. Le fiamme che la scorsa notte hanno attinto e per la quarta volta in cinque anni il deposito delle auto in custodia. Presenta anche stavolta con moltissime probabilità il marchio del dolo. Sul posto, vigile del fuoco dei distaccamenti di Vittoria Santa Croce, orte alla polizia. Un paio d'ore è durato l'intervento per domare le fiamme in un'area recintata all'aperto di Contate a Bosco Piano. Già avviate le indagini che verranno supportate anche dall'acquisizione delle immagini delle telecamere a circuito chiuso piazzate nell'aria. Si vuole in pratica capire se prima del rogo si siano avvicinate persone o mezzi e se abbiano effettuato azioni o comportamenti sospetti. Ma quello dell'incendio a rogo dal depositato non è stato l'unico della scorsa notte. Per ora infatti tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato duramente nelle campagne del Vittoriese per domare le fiamme che hanno attinto numerosi ettari di coltivazione mediterranea. In particolare un vasto incendio ha interessato la zona di Contate a Bosco Rotondo, mentre gli altri incendi di notevole entità si sono sviluppati rispettivamente a Macconi e in Contate a Pezzafico. Una notte di fiamme e fuoco insomma quella trascorsa è un fenomeno purtroppo che continua a depauperare e a sottigliare sempre più il nostro patrimonio boschivo e paesaggistico.